Dalle 7 di questa mattina è revocato lo sciopero oltranza dei lavoratori dello stabilimento Ilva di Taranto, indetto dalla FIMCISL dalle 14 di giovedì scorso. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri, alla luce di quanto emerso nel corso del vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, preseduto dal Presidente del Consiglio Mario Monti. Il Premier ha ribadito che la legge 231 del 24 dicembre scorso, pur in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale, deve essere applicata dalle istituzioni e dall'azienda, che ha confermato il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni AIA e alla tutela dell'occupazione, assicurando il regolare pagamento delle attribuzioni a tutti i lavoratori. La legge, ribattezzata Salva Ilva, permette di fatto all'azienda Tarantina di continuare a produrre e commercializzare i suoi prodotti, ma soprattutto blinda l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata al Siderurgico lo scorso 26 ottobre, con una serie di prescrizioni a carico dell'azienda, da tempi ed in tre anni. Le disposizioni si sono scontrate però sin da subito con il parere negativo della magistratura tarantina. Su richiesta della Procura, il Tribunale del Capologo Ionico ha sollevato pochi giorni fa la questione di legittimità costituzionale sulla legge 231, in aperto contrasto, secondo i giudici, con ben cinque articoli della Costituzione. Lo sciopero, proclamato dalla FIM e successivamente dall'Unione Sindacale di Base, aveva provocato il blocco di diversi impianti, come gli acciaierie 1 e 2, e gli altoforni 2, 4 e 5, che ora progressivamente stanno tornando a marciare. Dopo il caos degli ultimi due mesi, lo stabilimento tarantino si gode queste ore di tregua, in attesa della decisione del GIP Patrizia Todisco, in merito al dissequesto dei prodotti finiti e semilavorati, del valore di oltre un miliardo di euro, fermi nei magazzini e sulle banchine del porto. I sindacati hanno espresso grande soddisfazione per l'esito del vertice di ieri, prendendosi in parte i meriti di una decisione che sa di vittoria. La prossima settimana, l'azienda renderà noto il nuovo piano industriale. Sarà di vitale importanza, rivadiscono le sigle tarantine, arrivare allo sblocco dei prodotti. Solo così, l'ILVA potrà garantire il pagamento degli stipendi dei laboratori, salvare le sue commesse e assicurare la produzione. In pratica, potrà riprendere da dove aveva lasciato.